Perché vale sempre la pena investire energie, risorse nella cultura dell'innovazione per generare un effetto domino di buone pratiche perché le banche devono modificare il proprio modello di business protagonisti della società di oggi e costruttori del futuro per sensibilizzare la nostra comunità allo sviluppo sostenibile abbiamo l'opportunità di mettere in campo una ripresa trasformativa che preservi il capitale naturale, che non sprechi risorse e che punti sulle rinnovabili Coinvolge le giovani generazioni ad essere protagoniste attive In quanto società Benefit e di corpo siamo impegnati quotidianamente a promuovere lo sviluppo sostenibile perché voglio aiutare le PMI italiane ad avviare un percorso di innovazione crescente per l'economia e l'ambiente più sostenibile e per la società più inclusiva Perché crediamo tanto nel cambiamento Perché le possibili ipotesi di attraversamento stabile dello stretto di Messina devono essere viste nel rispetto dell'agenda OM 2030 Per una scuola di qualità Perché vogliamo un futuro e un mondo in cui siano sconfitti le disuguaglianze e discriminazioni la povertà, la fame nel mondo Discutere l'importanza di una relazione sostenibile con il proprio mare per la nostra e futura generazione Per la nostra e futura generazione